Sì, mi nascondi qualcosa? Di che tipo? Oh! Desideri, soddisfazioni, sentimenti, non lo so. No, tu? C'è un tipo carino qui vicino. Ti prego, no, dai. Non c'ho voglia stasera, eh. Ma non c'avevi neanche ieri sera. Eh, ma tu ce l'hai sempre. Ora che ti vedo e te lo vuoi scopare, eh. Mi chiamo offendo. Non ho mai avuto un coppio come il vostro. Vos ete tre calme. Vos ete libre. Being here with you. Grazie a tutti.